Il gruppo di tour operator internazionali faranno tappa nel Salento nelle prossime ore per conoscere il territorio e le sue offerte e potenzialità e studiare strategie per incentivare la destagionalizzazione del turismo. L'iniziativa è dell'imprenditore Gino Cozza, vicepresidente di Federalberghi, che ospiterà operatori turistici provenienti dai paesi come Stati Uniti, Serbia, Svezia, Spagna e molti altri. Veramente da tutto il mondo. L'alternativa è essere presenti nelle fiere e quindi incontrarli, che è sempre complicato durante le fiere perché il periodo è sempre limitato. Abbiamo messo insieme 12 tour operator, ma sono i più aggressivi, i più importanti tour operator al mondo. Loro vengono per visitare il territorio. Il segmento sono le masserie di more d'epoca, ma anche visitano il nostro territorio dal giro con Catamarano, frantoio ipogeo dei nostri borghi, quindi Presiccia e Specchia, visita della costa adriatica. Ma il tour comprende anche visite guidate a Lecce, Otranto e in altri borghi storici del territorio e poi le escursioni nelle acque salentine. Il nostro territorio merita, merita perché la temperatura, perché non ci si può limitare solo per la stagionalità che dura i tre mesi e mezzo. Il nostro territorio offre tantissimo anche nei periodi di bassa, li chiamiamo, ma non sono poi realmente di bassa. Quindi marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, ma arriviamo anche alle festività di dicembre. Abbiamo una temperatura mite, offriamo tantissimo, e no gastronomia, anche il mare, perché se il nostro territorio lo proponiamo ai paesi nord Europa, la nostra temperatura che è sempre mite, quindi 18-20 gradi, per loro chiaramente è come se fosse un periodo estivo. Grazie. 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 Grazie.